La cosa che mi preoccupa non sono tanto un posto ma le palle che c'erano per te Calma 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 stiamo bene stiamo bene E io guardate non mi faccio niente domande su quello che si faccia male e io sono il chiesio se oggi siamo su un error si chiama nox timore Timore come timore in italiano non lo so magari timore è il nostro gol ma vuol dire che non devi avere timore Penso di no sia un ormai penso che tu debba averne O gesù santo mio dio Siamo partiti e siamo in una stanza io lo alzo invece Aspetta non si sa Ma io ho una torcia qualcosa fa schifo così no Magari se ti muovi perché ci sono palle come si fa a muoversi forse basta anche solo si basta Si sta baggando tutto si ma cazzo No e invece di no E ci attraversa Ma che cazzo Grazie scusa mi porta Allora sono l'idraulico è Mi hanno detto di una tubatura che gocciola Perchè ci sono palle per terra? Non lo so Sono l'idraulico ed avete detto che c'è una tubatura che gocciola eh E anche che c'è del sangue Ma che bello Ma tra l'altro non c'ha il buco con l'amandino lì? Come fa ad andare giù l'acqua? Guarda non c'ha il buco O ce l'ha? Non lo so è tappato di sangue E' tappato di sangue si può Ma come si? Oh chi sei tu? Chi? Non ho visto nessuno L'ho visto io Lui Ciao amico Ciao sei tu timore? Non lo so Va bene Va bene ok Sei tu quello del lavandino Perchè mi dovresti dare un po' di soldi Perchè mi ho messo a posto prima L'abbiamo già messo a posto Adesso non è più tubato di sangue Non è più tubato di sangue Ma che cazzo? Ma dove stiamo andando insomma? Non so E' identico a prima ragazzi Vabbè E' l'armaghetto No non si può somma più Incollati come su Direi che non si può fare un cazzo in questo gioco Un cazzo Oh salve da te Ehm Ancora Mi devi dare i soldi per il lavandino Quindi O mi dai i soldi Vai avanti Non so voglio qualcosa Ok Ma bisogna continuare così O mi dai i soldi Oh c'è qualcosa Sono felice di vedere che sei qui Sì Anche io Sì Anche io così mi paghi Eh non ti sei spaventato No ma gli goccia la naso poverino Gli goccia No gli goccia l'occhio Non c'è l'occhio Gli goccia l'occhio Ehm Sì mi dai i soldi È normale che uno goccia l'occhio di sangue Molto normale Sì Tante tante Ok ragazzi quindi praticamente penso che dobbiamo continuare a sciurre giù così A raccogliere Finchè lui c'ha morto No effetti fermi questo non c'era prima Infatti cos'è sta roba così È lunghissima Vabbè Cose lunghissime sono abbastanza Cose lunghissime Note al manichino Cos'è in fondo Eh boh Oddio cos'è Spero non sia una cosa lunghissima Una porta Oh Aprela pure Scusate sono io che devo fare più tua Cos'è? Ancora Ancora Sono felice che tu sia qui ancora Ancora Ragazzi probabilmente adesso ci giriamo E c'è C'è uno spavento Quindi noi Invece no Ciao quanti siete amici miei Ehm Si Salve a tutti Allora mi dovete quel soldi Mi sono spaventato un po' Ma non tanto per loro Per la musica Per la musica Si certo Ma perchè io non li avevo neanche visti Ma che bella ombra di me Avete Ehm Ok Ehm Ehm Siete in tanti Mi dovete pagare tutti Io solo uno per esattezza No fanno Fanno 5 euro a testa tipo Ehm Va bene Puoi uscire Puoi scappare No mi servono i miei soldi Ah ma siete ancora tutti qua Ehm No ma ci girano sempre Guarda Ci girano sempre guarda Fermati un attimo Fermati un attimo Guarda Evi che stai guardando Che fighi che siete ragazzi Che fighi E siete un po' paradisiaci così Illuminati da Paradisiaci E guarda Secondo non ci paga neanche E poi ci rinchi Possono anche non fare niente Perché tanto E basta E ci lasciano E ci lasciano morire In agonia Si Continua ad andare avanti Finchè non c'è un muro Ah ma c'è un corridoio di cosa Ehm Perché corridoi lunghi ragazzi Perché perché Mi date un po' Che è stato? Ehm non lo so Penso siano i russi che lanciano bombe strane Ah no la porta è quella di là Ok dobbiamo andare Ehm I russi che lanciano bombe strane Ehm non lo so Ma che Che ti sei magnate oggi? Ehm Ok Puoi scappare? Ma non mi piaceva tanto mai Voglio andarmene con i miei soldi Capito? Voglio i miei soldi La cosa che mi preoccupa Non sono tanto in posto Ma le palle che c'erano per te Oh Ma Gio Oh Gio Calma 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 Stiamo bene Stiamo bene Lui doveva darmi i soldi Ma mi ha benato Mi ha fatto svenire Dopo mi ha messo davanti Quella fotografia Perché così mi spavento Ma io voglio ancora i miei soldi Capito? Oddio Voglio ancora i miei soldi Ma perché? Spiegami Ma Ah puoi scappare Ma tornerai indietro In qualunque caso Bello Ma qua non riusciamo a vederlo Cos'è? UF? Non hai altre scelte Ah hai altre scelte Ok Perfetto Ah una porta Invece lì in fondo Cosa c'è? Non lo so apriamo la porta intanto Oh ma che bel corridoio dai cavolo Ma in questa casa è piena di corridoio Ma No questa musica è bella Chiusa Tranne Oh oh Gesù santo mio Gesù santo Gesù santo Gesù santo Cos'era quello? Specifiche Spiegami Chiusa Chiusa E' satana che è in questo gioco da parecchio Sì 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 Riesci Vedrai che riusci Ah sono proprio le berrinee Pensavo che fossero proprio scaffali messe così a cazzo Ok Ma scusate Devo guardarti qua Ci sono due occhi Quindi hai visto? Ciao Su quel tavolo? Fermo Un attimo Attimo di riflessione Allora se ci avviciniamo ci prendiamo uno spavento Quindi Preparatevi Preparatevi E' un classico Quindi vai Se volete Ok andiamo No Ha una chiave del bagno Della toilet E ci sarà sicuramente un infarto Si alla fine O a metà della mia via A quando meno te lo aspetti Quindi io me lo aspetto sempre infarto, infarto, infarto mi dovete andare ancora i soldi c'è una libreria invece qua c'è l'infarto credo...no libro?? libro fraggioni aaaa la toilet room è la chiave del bagno Non si possono aprire Sì invece Ho paura Alla prima Ho paura a aprire gli altri bani Dai caghiamo All'abbiamo presa la chiave Aspetta girati che caghiamo dai Girati così ci viene un infarto Mi scappa Io direi di provare a aprire gli altri bani No 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 Siamo un idraulico Dobbiamo avere i nostri soldi Gli altri bagni Ma qua c'è il muro o che roba Quindi dobbiamo entrare indietro Eh dobbiamo andare mi sembra Dove ce l'ho chiuso prima magari Timore No non lo so Guarda ci aspettava proprio Alla porta giusta Perché tu sapevi che noi dovevamo passare di qua Tu stai fermo No lui si muove la faccia Stai fermo amico mio Fai da bodyguard Dopo ti bacio No Lascia stare Ma si è richiusa la porta Cos'è? Una mitragliettrice Ma cosa mitragliettrice? Ma tu stai andando avanti Sì ma non va Siamo contro qualcosa Ah contro la porta siamo Ah perfetto Cos'è una rite? Ma che cavolo Una ragnatela? What? Ah no è sempre pavimento È una nota? Perché non si riesce a vedere De... No this is my world Ok ragazzi scusate per l'italia ma ci si era Aspetta aspetta non andare avanti te Ci si era scaricata la videocamera e quindi vi ho dovuto aspettare un attimo Intanto qua c'è una nota Non so se notate tra i tante pietre ovali Pallose Pallose Puoi andare... Oddio troppo No 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 Vole Eeeh Trust you? No No that you live in R&D Ah sarebbe... No that you live in Praticamente il mondo in cui ci vivi Praticamente Tu sei nel mio mondo in cui vivi Ah Dove andiamo? Di qua ragazzi No ma ci sono i vani Oh io andare di qua però boh No Sì credo che dobbiamo andare di qua No 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 Timore Perché? Perché timore? Satanico Ancora Perché? Lo so che ci puoi abbracciare Lo so che ci puoi bene ma Ma con calma Ma un po' di contenuto Volevo solo i miei soldi Va bene Andiamo avanti C'è non abbiamo fatto niente di male Siamo camminando in un corridoio E lui ci abbraccia Sì sì Appena mordiamo giù You We Tra Sei intrappolato qua Eh Che tu ci sei intrappolato Prendiamola Che bella Che bella Che bella Eh ragazzi Sì Oh no Ancora la luce di prima Si può prendere Ma perché a volte vedi? Infatti Ah consiglio la luce forse Dove è andata? Ecco Ah potessi Eh dove dobbiamo andare Andiamo al fondo Al fondo Ah vedi quando c'è un po' di luce le vedi le gambe Vedi? Ah Anche qua Perché c'è una brutta cosa qua? Oddio quanto è brutto Lo dobbiamo andare Eh aspettiamoci brutte cose Cazzo Ragazzi Satana Satana Io me ne vado In persona Me ne stava andando Ah tutto il concetto Sono felice di vederti qui Ancora Puoi scappare Ma tornerai sempre qui In qualunque caso Non hai altra scelta Non puoi andare via da me Sono una parte di te Questo mondo In cui vivi E ogni notte Ti ci sei Ci sei intrappolato E è finito Ah così proprio Mi dite che è finito? Fa' gola Bene ok Mi posso calmare adesso Quindi ragazzi Se il video è piaciuto Lasciate un commento Mettete un mi piace Iscrivetevi E basta Rorro per un po' Davvero Quindi Bella ragazzi Si apre E anche un luogo Che schifo è quello? E' un granchio Con un naso Con C'ha anche la bocca Che schifo è? Cos'è? Con un naso e Blu Che fai Wake up Blu Dio Che fai Che fai Che fai Sandro Che fai